le 100 panchine sono motivo d'orgoglio sicuro perché ci tengo a queste cose le guardo e mi fanno molto mi danno molto orgoglio mi danno molta gioia poi io non guardo mai quello che che è stato guardo sempre quello che non sono riuscito a fare più che a compiacermi su quello che è stato fatto però il fatto di arrivare a 100 panchine così prestigiose mi dà ancora più responsabilità mi dà ancora più voglia di essere adeguato a quello che rappresento rappresento allenatore di serie a in una società comunque importante e quindi mi porta a fare il mio lavoro con ancora più dedizione più impegno più cura dei dettagli più più fame di di raggiungere tutto quello che si può poi quello che si può è sempre difficile stabilirlo io credo che come ho detto l'ultima conferenza ci siamo consolidati all'ottavo posto in serie a o comunque a quel livello e non è facile perché stare dietro alle grandi squadre star davanti comunque a tante squadre più prestigiosi di noi come passato è motivo di orgoglio per tutti la sassuolo ha fatto tanti gol in questi anni perché davanti soprattutto ma anche dietro a giocatori di qualità e quindi passa sempre il segreto non c'è il segreto e sta nella qualità dei giocatori sta nella qualità della rosa adesso veniamo da da 13 partite con gol fatti ma ne avremmo potuti far di più e domani incontriamo una squadra che viene da quattro clean sheet consecutivi quindi è un altro esame un'altra partita difficile che vorremmo far bene vorremmo vincere perché vorremmo vorremmo cercare di di dar continuità non solo le prestazioni che secondo me sono già positive ma riuscire a vincere per stare attaccati a al treno che sta davanti a noi mancano ancora tante partite e come dimostra l'anno scorso nelle ultime 13 abbiamo fatto tantissimi punti è chiaro che ci sono delle partite che pesano più di altre ma ma di detto di definitivo di determinante quando ci sono ancora così tante gare non è difficile dirlo ma la vittoria di napoli è stata prestigiosa perché l'abbiamo fatta in uno stadio prestigioso contro una squadra forte il sapore diverso di quella vittoria è stato dato dal fatto proprio che che in settimana avevamo avuto defezioni una dietro l'altra di giocatori importanti di giocatori tutti in uno stesso reparto e quindi non so quanti potevano aspettarsi un risultato del genere purtroppo è andata domani la partita non parte dal dal 2 a 0 per noi non parte dallo 0 a 0 e troviamo comunque una squadra che ha recuperato sta recuperando dei giocatori importanti una squadra che sa giocare e quindi è una gara bella se guardiamo la partita col bologna al di là del risultato è stata fatta bene la prestazione meritavano di vincere e anche in 11 contro 11 eravamo in campo ed eravamo bene chiaramente contro una squadra forte però anche noi stavamo facendo bene vediamo ci siamo allenati forte questi dieci giorni abbiamo spinto tanto credo che stiamo migliorando fisicamente stiamo migliorando nei singoli mi piacerebbe tornare a essere ancora più arrembanti in fase offensiva e questo però passa passa dallo stato fisico perché a giocare a calcio serve la palla ma servono anche le gambe per correre serve corre serve intensità e quando noi abbiamo fatto gli esplua di risultati questi sono coincisi con una condizione fisica molto buona chiri che se fermo così come boga e burabia ma gli altri stanno tutti bene e sono tutti utilizzabili abbiamo la partita anche sabato a udine importante uguale a quella di domani ma non faccio già tabelle vediamo domani gioca la formazione che io reputerò la migliore per questa partita e poi giovedì vedremo chi è uscito meno bene per la partita di sabato